Durante un urto all'interno di un sistema isolato la quantità di moto totale dei corpi coinvolti si conserva. In un urto elastico come quello fra due palline da biliardo i corpi mantengono la loro forma originaria e dopo lo scontro si allontanano separatamente ridistribuendo fra loro le quantità di moto iniziali. In un urto anelastico invece i corpi coinvolti si deformano in modo permanente rimanendo uniti dopo l'impatto. Sono esempi di urto anelastico quello di una pallottola sparata contro un sacco di sabbia o quello fra due vagoni che si agganciano. In questo tipo di urti intervengono forze dissipative perciò vale il principio di conservazione della quantità di moto ma non quello di conservazione dell'energia meccanica. Nella realtà non si riscontrano urti perfettamente elastici o anelastici ma situazioni intermedie.